Bene ragazzi, mi è arrivato una cosa su ammazzare, ora clappiamo, clappiamo questo pacco su ammazzare, mi è arrivato oggi, vediamo che cosa è, scusate per voce, ma è solo questa voce. Eccolo, eccolo qua, eccolo raga, matiamo, eccolo, guardate, 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 guard ecco qua raga ecco qua ecco qua ecco qua raga